Orore a Colosuar Una notte di novembre, temendo una perquisizione domiciliare, gettai nel fiume una casetta del registratore. La tua voce vi era incisa, del resto sai di quale casetta si trattasse. Da l'ora per un bel po', ogni volta che attraversavo quel ponte sul Samos, sempre ti sentivo dall'acqua salire.